Un percorso immaginario ma suggestivo fra i palazzi della Torino del XVIII secolo. La mostra Il re e l'architetto, viaggio in una città perduta e ritrovata, sostenuta dal Consiglio regionale, che ha promosso la pubblicazione del catalogo e allestita all'Archivio di Stato di Torino fino al 30 aprile. Tra le principali architetture evocate c'è la Casa Studio di Filippo Iuvarra, i palazzi del potere comunale, statale e religioso, e le residenze estraurbane di Stupinigi, Venaria e Rivoli.